ciao a tutti io sono lord e bentornati o benvenuti sul canale sesto giorno seconda canzone in analisi sempre pink floyd time un altro pezzo che mi piace da amati da amati non ho mai suonato no bugia non è vero l'ho suonata una volta per un'occasione solo e in quel frangente ho suonato dire sì con la stessa band con cui faccio da batterista in questa occasione avevano bisogno avevamo fatto una gem avevano bisogno di un gruppo che si unisse a loro per fare una serata di halloween e così abbiamo deciso di fare alcune canzoni insieme time è stata una di quella prima e unica volta che l'ho suonata mi ero anche imparato il solo però l'ho completamente dimenticato non mi ricordo nulla di quella canzone e non mi ricordo non l'ho neanche registrata con la tastiera con gli video che solitamente faccio ma forse era un periodo in cui non non avevo più fatto nulla non me lo ricordo fatto sta che si riparte da punto a capo da zero cuffia e andiamo a sentire time 3 2 1 che atmosfera 3 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 5 2 6 1 6 1 9 1 10 20 E' così suggestiva, che ti richiede un trasporto emotivo per suonarli. Non è un'esibizione di capacità, è un trasporto. Bisogna entrare nel tempo, non nel time del metronomo, nel tempo degli orologi. E qui la mia paura è che non avendo gli accordi, come nella parte di piano, e quindi ti aiutano a mantenere una struttura, Dovendo fare quelle rullatine, ho paura di perdermi nelle battute. E queste sono molte. Stoiccoli. I cori Una batteria che è poco più che accarezzata Non c'è la città della mia Non c'è l'imparto Non ci ha detto che dove andare Non c'è l'imparto Non c'è l'imparto Non c'è l'imparto Non c'è l'imparto E' la mia Credo che sia una struttura come la strofa sotto. E' acquisti che usa la precisione e di luogo di estensione. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato che viaggia su delle sfere di crescendi e di bagatezze che è fenomenale. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. Nel dormiveglia. E' un tempo diverso da prima. E' più lento. E' più lento. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. E' acquistato. Con quell'organo. Che rimane lì. Sospeso nell'aria. Uff. Bella, 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 bella. 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 Le atmosfere di Pink Floyd mi hanno sempre affascinato tantissimo. Uff. Uff. Giuro. La pelle d'oca. La pelle d'oca. Non so se si vede, ma ho la pelle d'oca. Ehm. Me la devo ascoltare. Non tanto per i ritmi, eccetera. Che, vabbè, è chiaro. Ma più che altro per il conteggio delle battute. Il conteggio dei soli. E' eterna. Cioè, non è lunghissima come canzone. Però dà la sensazione di essere espansa. Me la guardo. E cerco anche di capire, magari con un tap tempo, quant'è il cambio di metronomo. Sulla parte iniziale, certamente. Ma quanto cambia rispetto alla seconda e ultima parte. Quella che va a chiudere, poi, effettivamente. Per cui, arrivo subito. Che viaggio. Che viaggio di canzone. Uh. Mi devo un po' riprendere. Perché veramente è una seduta di yoga. Questa canzone di Pink Floyd. Ti porta in un altro stato. Di benessere. Io poi sono ignorante. L'inglese lo conosco malissimo. Pochissimo. Non ho completamente capacità nel parlare. Nell'ascolto qualcosetta se mi concentro. Ma non ho nulla. Per cui, per me, il testo può dire qualsiasi cosa. Me lo interpreto, come mi pare. E quindi, per me, parla di qualcosa di molto dilatato, rilassato. Poi non lo so. Magari è un omicidio afferato. E non mi sono mai andato neanche a documentare. Per cui, la mia non è solo impotenza. È proprio cattiva volontà. Dunque, eccoci qua. Time Pink Floyd. Mi pare un 66 di metronomo. Io l'ho segnato come quattro quarti. Con tutte quelle belle battute di... Non pausa, ma sono giochini che fa di rullate. Mi è stato detto dalla band, appunto, che... Per cui faccio questo progettino. Che loro hanno tre rototom. Con la loro asta. E me le presterebbero. Al che ho detto, grazie. All'inizio ho pensato, ecco, che me ne faccio? E poi mi hanno detto, ma scusa, Time, come la suoni? Io ho detto, non la suono. Non suono proprio niente io. Per cui... No, vabbè, scherzi a parte. Loro mi conoscono, sanno che sono tastierista. Però giustamente davano per scontato che avrei dovuto fare Time. O meglio, io ho capito, percepito, ho intuito che fosse scontato per me fare quelle parti. Non seguirò nessuna partitura. Non le ho segnate. Non mi importa. Non me le terrò a mente e a memoria. E poi, ripeto, non ho la capacità di mettermi a leggere mentre suono dal vivo per seguire una partitura. E fare quello che ho scritto sarebbe folle completamente per me. Per cui andrò a istinto. In sala prove non ho questi rototom. Quindi prenderò un tom da 10. Forse in qualche modo posso provare a metterlo e usare quello. Se no, uso gli altri giusto per provare qualcosetta. E quando arriva a fini battute. Comunque, fine intro. Tum, 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 ta ta ta. E questo dovrebbe essere poi l'incipit per introdurre la strofa. 8 battute di strofa. 8 battute di ritornello. Con ride. Quindi cambio da charleston a ride. E poi c'è il solo. 24 battute di solo. Fantastico. Aggiungerei. Ma non sono un chitarrista per cui non so dare una valutazione. E si riprende con la strofa. Si riprende con un altro ritornello. E poi c'è quel nuovo tempo. Io l'ho percepito provandolo col tap tempo della tastiera. E approssimandolo sui 60 dpm. Alzo le mani perché non saprei dirvi se effettivamente è giusto il mio ragionamento. Oppure non varia minimamente il metronomo. Ma è una suddivisione del tempo che viene fatta. Non lo so. Io da tastierista grezzo. La batteria rallenta. Io ci vado dietro. Non sto tanto a guardare. Pre strofa sul ride. Dopodiché fa la sua nuova strofa a 60. Un ritornello a 60. E lì va a chiudere. 2, 4, 6, 8 dovrebbe essere sempre da 8 e da 8. Se non sbaglio. Questo è quello che io ho capito. Da Time dei Pink Floyd. Sono sicuro che sotto c'è una quantità di contenuto e di approfondimenti che mi sono completamente sfuggiti. di finezze, di capacità batteristiche, di fraseggio, di innovazione anche sonora probabilmente. Ma abbiate pietà di me. Bene ragazzi. Questa era la seconda canzone dei Pink Floyd. Seconda canzone del sesto giorno di prove. Quindi sarà il venerdì. Io venerdì proverò queste due dei Pink Floyd. Cioè Time è quella prima che ho analizzato che è Money. E grazie di tutto. Grazie mille. E ci vediamo con la prossima canzone. Terza per il giorno 6. Ciao ciao.